ciao ciao a tutti amici ben ritrovati nel canale oggi allora continuiamo con le nostre dediche e che mi ha portato tre biglietti un miliardario, un mega, un venti perro e un sette e mezzo da tre ok allora cominciamo dal sette e mezzo cominciamo allora vediamo qua quello che ci porta intanto auguro buona visione a tutti e il sette e mezzo è richiesto da francesco simonetti ciao francesco ecco quel tuo biglietto serie 86 numero 30 ok vediamo un po il banco ci dice vediamo un po salina riesce a grattare senza incollarsi vediamo ok sto bovendo il caffè questa mattina sicuramente tedesco o americano come lo volete chiamare voi allora vediamo il banco ci dice 2 4 e mezzo ok 4 e mezzo primo gioco abbiamo un 3 abbiamo un mezzo e un mezzo e abbiamo un 4 rischiamo indietro per mezzo lungo vediamo secondo gioco mezzo 2 e di nuovo 4 no 3 quali quattro questo è un 3 2 3 3 2 mezzi niente restiamo indietro vediamo un po il primo gioco non abbiamo fatto niente e vediamo un po con le super carte se facciamo il sette e mezzo mezzo che ci serve un altro mezzo che non ci serve e niente è andata un sette e vediamo un po cosa ci sarebbe stato 3 euro e vabbè comunque caro francesco questo biglietto non è vincente mi dispiace ma non ti posso fare una vincita farà per la prossima volta ok allora mettiamo davanti adesso passiamo al 23 richiesto da romina castaldo ciao romina tu mi avevi chiesto il numero 23 se non sbaglio però non l'ho trovato e ho preso questo quello che mi è capitato quello che mi è capitato è serio 41 numero 24 mi dispiace 23 non c'era ok torniamo un po vediamo un po allora numeri vincente 32 31 41 15 per 10 42 ok allora primo numero abbiamo un 30 poi segue 39 27 24 21 abbiamo 31 41 21 no ok continuiamo con il 22 niente paparello abbiamo 45 niente bonus per 10 42 43 e mo ci deve essere 42 no e niente il 23 mi dispiace niente di fatto poi abbiamo 26 niente ancora nessun colpo poi abbiamo 40 43 41 25 natale niente 28 non ce l'abbiamo poi abbiamo 40 c'è 41 25 natale niente 28 non ce l'abbiamo 12 non c'è ultimo numero 19 mi dispiace ma non ci posso fare una vincita ok sarà per la prossima volta allora adesso passiamo al nuovo mega questo non è richiesto da nessuno in particolare allora lo dedico a tutti vediamo no devo chiudere no che sto facendo come si chiude ok allora questo è lo che lo dedico a tutti a tutti i miei cari amici del canale e a tutti quelli che mi piace in particolare il mega ok perché voi allora questo è serie 01 numero 9 vediamo un po che ci dice allora numero di vincente abbiamo 53 23 27 24 e 31 numero giallo 55 è un numero caro ad una nostra amica del canale che posso anche fare il nome ciao gabriella e il tuo 55 vediamo un po e lo so che tu pure mi hai richiesto un mega però ti devo dire che non ho trovato il numero allora ho preso quello che ho trovato e lo dedico a tutti ok vediamo un po se il tuo numero ci porta fortuna bene continuiamo a grattare allora numeri vincenti no questo è il numero di vincenti ma adesso andiamo ai nostri numeri 46 niente 54 ecco verrà andare 53 54 e 55 ok abbiamo 36 niente niente 41 e 39 niente di fatto poi abbiamo 33 niente 32 abbiamo 31 11 non c'è 18 18 e 26 e 26 abbiamo il 27 ok continuiamo 52 ecco tanto per andare vicino al 53 però 53 non c'è abbiamo 54 e 52 meno 53 abbiamo 19 che non c'è 51 51 niente questo è il mio numero e non c'è abbiamo 48 niente di fatto e 12 non ce l'abbiamo allora ultimi 5 numeri sono 56 ecco qua 14 non c'è 50 ma il 53 non c'è o il 55 poi abbiamo il 20 niente ultimo numero 25 abbiamo il 24 eh cari amici io non so io guarda veramente non ho parole guardate io ultimamente non ho parole perché proprio non so non so come è successo specialmente in questo mese di giugno proprio sono andata a 0 0 0 0 0 0 0 non lo so, è meglio ridere, no? Che ci facevo fare? Niente, 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 tre bigliettini grattati, la spesa è stata di 10, 15, 18, 18 euro, qui recupero 0 e mi dispiace tanto, cari amici, ma non posso dire niente altro, facendo così, vediamo un po' il caldo, forse la lina non la può vincere, non so, vediamo se cambia un po' questa scia, ok, ciao ciao amici, vi saluto a tutti, buona estate a tutti e buon caldo, un bacio, un abbraccio alla lina, pollice in su, iscrivetevi e condividete, come sempre, ciao a tutti, un bacione, al prossimo video, ciao! ero no, c'è, l'ocque maria, die maxi soorgete, la mollica, gucci bollica, mollica, ma si esche nix die minuas im dressing ... ... ... ... ... Il Zorro aveva un sacco di questo tipo di Storoporto. Ah, tu hai una volta nascita. Guarda come la mia, come la mia? Oh, 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 come la mia? Du bist hier der Kater im Haus. Jetzt schau doch einfach mal, was das ist. Ja, die trauen sich. Trauen sich.